In pedana, ragazze. Kyra guiderà il gruppo. Io? Sì, tu. Io? Falle iniziare, per favore. Ah, ok, cominciamo, ragazze. Formeremo due gruppi e faremo delle corse incrociate. La tua idea è che sia Kyra a guidare? Sì, le ragazze sembrano rispettarla e ho pensato, dobbiamo ascoltarla, come fanno le altre. È domenica e faremo una gara amichevole per affinare la vostra competitività. Non è così terrificante, in fondo. Vediamo chi sarà la nuova campionessa di verticali oggi. Così, così, mantenete. Respirate, respirate. Respirate.